Chiara è una donna che è realmente esistita, che esiste. Edoardo, dove sei? Non mi rispondi mai, non mi rispondi mai. E quindi sto vivendo ora che sto facendo questo film una strana esperienza di storia completamente irreale per me. Dove vai da Norena? Si fa la stessa storia... Tu sai benissimo che è Norena, tu lo sai benissimo anch'io. Ma reale, è successa e quindi diversissima dalle storie che si fanno normalmente che sono storie inventate o tratte da libri. Continua a chiamarmi Norena. Io non so chi sia questa Norena. È una ragazza che viene... che viene molestata piano piano da una persona che abita nel suo stesso palazzo. Buongiorno. Manuela di per sé ha già una situazione psichica un pochino al limite. Sta elaborando un lutto, non si capisce se l'ha superato. Lo so che sei tu che mi punisci. Ti prego, lasciami stare. Ti prego, io non volevo. Quindi questo suo tentativo di ricostruirsi una vita viene improvvisamente, bruscamente interrotto da... dall'arrivo di Chiara nella sua vita. Donne assassine Chiara Giovedì 16 ottobre alle 21.55 su Foxcrime . . . Grazie.